Grazie, buongiorno a tutti, mi dispiace non essere lì oggi, mi sarebbe molto piaciuto ma non sarebbe possibile questa volta, so che ci sono molte persone che conosco e che ho avuto modo di rivedere e salutare, però vi saluto via Skype. Allora, immagino il dibattito sia stato molto vivo già questa mattina e mi sono chiesto di così riassumere brevemente per chi non conosce bene gli ADR Store, che cosa sono essenzialmente? Dunque, Maria mi ha chiesto di spiegare come sono nati, che tipo di servizi offrono l'impatto nella comunità e la percezione da parte degli utenti, allora vi faccio una carrellata su queste cose. Come sono nati? Gli ADR Store sono un servizio di biblioteca e di corso di informazioni pubblici organizzato dal comune di Tower Hamlets, uno dei 32 comuni di Londra, uno dei più poveri di Londra, tra l'altro, nella parte centrale di Londra. Siamo nati perché nel 1998, nel 1998, 16 anni fa, offriamo un servizio bibliotecario molto molto scarso, infatti eravamo l'ultima in classifica a Londra come utenza, come performance, in essenza. Per cui, invece, abbiamo fatto un'indagine di mercato per chiedere alla gente del posto che cosa avrebbero voluto da un servizio bibliotecario moderno e loro ci hanno indicato molto chiaramente che cosa volevano. Volevano un servizio molto più accessibile, imposti molto più accessibili, aperti 7 giorni alla settimana, con servizi integrati, oltre a quelli tradizionali di biblioteca che possono essere i libri e l'informazione, l'accesso all'internet, per cui ci hanno chiesto di includere una parte del servizio che dovrebbe consistere nei corsi di formazione che noi offriamo a tutti, agli adulti in questo quartiere. Per cui abbiamo essenzialmente amalgamato il servizio bibliotecario con il servizio dei corsi di formazione per adulti, di cui io facevo parte, io ero un direttore di Moody College qua nella zona e abbiamo un direttore forze per creare questo concetto che si chiama Idea Store, che essenzialmente comprende il servizio per i libri, il servizio bibliotecario con quello classico, tradizionale e questi corsi che offriamo alle famiglie, ma anche agli adulti, molti dei quali sono disoccupati per cui noi vogliamo fare corsi per esempio come di alfabetismo, anche di informatica molto complementare, di lingua inglese per i migrati e così via. Questi servizi, quelli che stiamo andati così, nel 2002 abbiamo aperto il primo Idea Store e man mano abbiamo rimpiazzato le biblioteche del quartiere e i centri di formazione esistenti già allora, man mano li abbiamo rimpiazzati con una Idea Store in ogni rione del quartiere. Siamo arrivati a 5, abbiamo 5 Idea Store, l'idea è di farne 7, speriamo di arrivare a farne 7, comunque prima insomma abbiamo già fatti 5, abbiamo aperto l'ultimo a maggio l'anno scorso, stendendo anche quello molto molto bene. Come impatto è stato notevole, abbiamo quadruplicato l'utenza da quando abbiamo cominciato, invece di avere un mezzo milione di utenze all'anno, adesso ne abbiamo 2 milioni e 100 mila visite all'anno. Abbiamo aumentato il servizio dei vestiti, circa il 20% in più degli ultimi 6 anni, abbiamo i corsi di formazione anche per il tempo libero sono triplicati, abbiamo circa 11 mila iscrizioni all'anno. Ecco, oltre a questo abbiamo anche altre cose, come ci sono anche dei caffè, abbiamo dei festi, degli eventi con autori, eventi musicali, una galleria d'arte, un archivio, una biblioteca storica. Ecco, facciamo questo, quello che facciamo è questo, l'impatto è stato appunto notevole nella comunità e come siamo considerati, come siamo percepiti? Bene, abbiamo fatto, facciamo continuamente dei sondaggi per verificare il livello di soddisfazione e siamo arrivati, siamo al di sopra della media nazionale e anche quella di Londra, eravamo in fondo alla classifica, adesso siamo al terzo posto come utenza, ma anche come soddisfazione abbiamo raggiunto l'anno scorso il 92% delle persone, degli utenti, ci considerano, pensano che offriamo un servizio buono o eccellente, che è al di sopra della media nazionale che è il 90%, per cui siamo molto contenti di questo. Chiaramente il lavoro non finisce mai, siamo sempre così, cerchiamo di essere all'avanguardia, cerchiamo di migliorarci, continuamente cerchiamo di creare veramente, di riservare questo sogno di questo posto, di questo via di store che sono un centro veramente di coesione sociale per le proprie, dove tutte le varie comunità che sono molto molto variegate in questo quartiere possono sentirsi a proprio agio. Questo in essenza quello che facciamo, chi siamo? Io ho la fortuna di lavorare qua proprio dall'inizio, anche se non sono bibliotecario, il mio percorso l'ho fatto nel settore dell'istruzione, delle adulti, però sono arrivato a questo, in questo, nell'editor all'inizio del progetto, 12 anni mi fai a quanto riuscire a fare. Se vi va posso rispondere a delle domande, a delle domande. C'è una collega che chiede quali sono? Non mi sento? Scusami, buongiorno, chiedevo quali sono gli orari della struttura, si parlava prima di grande flessibilità richiesta dagli utenti, quindi volevo capire 7 giorni su 7, che tipo di orari, tornazioni, poi se ci sono eventi musicali, periodicamente estendete ulteriormente l'orario, interessava a capire un po' l'aspetto tecnico, come lo gestite. Grazie. Bene, grazie. Gli orari, siamo aperti 7 giorni la settimana, 71 ore la settimana, essenzialmente dal lunedì a giovedì, dalle 9 del mattino alle 9 di sera e al venerdì dalle 9 del mattino alle 6, il sabato dalle 9 alle 5 e la domenica facciamo 6 ore di apertura che possono variare rispetto a dove si trova la DSTO, alcuni quartieri preferiscono avere un orario, altri dalle 11 alle 5 oppure dalle 12 alle 7, perché questo ricalca l'esigenza di questo quartiere, di ogni quartiere, per esempio, noi siamo letteralmente vicinissimi al centro, appunto, focale dei quartieri che, dove sono i centri commerciali, il supermercato o il mercato regionale, se alle 11 è logico che noi anche apriamo le 11 e chiudiamo le 5, come loro, se il supermercato apre le 10, le 10 e le 4, anche noi facciamo quella dell'arri, perché appunto abbiamo, approfittiamo di questa vicinanza, di questa associazione con loro per essere, così, catturare i loro utenti e consumatori. Grazie. Ciao Sergio, sono Giovanni Solimine. Ciao, ti volevo chiedere una cosa, può sembrare una domanda cattiva, ma non vuole esserlo. Come mai, considerato il fatto che il modello Eviastore ha suscitato molto interesse, anche in altri paesi, anche in Italia, eccetera, non c'è stata poi una, come dire, diffusione sistematica di questo modello altrove. Forse perché il vostro modello si è affermato in un momento di crisi e di mancanza di risorse in altri paesi, per cui essendo abbastanza anche costoso l'investimento iniziale, non è il momento buono per tante amministrazioni locali per investire in questo tipo di interventi, oppure ci sono altri tipi di difficoltà, di resistenza? Ciao Giovanni, allora, grazie per la domanda. Sì, secondo me la crisi degli ultimi 5 anni sicuramente ha avuto un impatto negativo sul fatto che non ci siano moltiplicati gli addiesto nel mondo. Comunque secondo me non è solo una questione di soldi, è una questione di voler veramente impegnarsi a diare i soldi, a fare qualcosa di diverso, cioè anche prima della crisi finanziaria, noi abbiamo creato, come ho detto, questo progetto nel 98, abbiamo aperto il primo diastone nel 2002, per cui dal 2002 fino al 2008, 2009, i tempi in cui la crisi cominciava, in effetti abbiamo avuto pochissimo interesse, sicuramente in Gran Bretagna, dove siamo stati visti così, in una maniera negativa, ma dalle persone nel settore, devo dirlo onestamente, dove ci consideravano così, non delle vere biblioteche, non le avevamo considerati allo stesso livello di altre, non so come spiegarlo, è difficile spiegarlo, non fate una ricerca su questo, posso dire che comunque non mi stupisce più di tanto, perché ho sempre considerato, da quando sono coinvolto nel settore di biblioteche in Gran Bretagna, io le vedo in molti casi, c'è un atteggiamento molto conservatore, non molto innovativo, ho visto pochissime innovazioni, veramente belle e proprie, in Gran Bretagna negli ultimi 12 anni, ho visto edifici nuovi costruiti, anzi parecchi, alcuni notevoli, sono stati già all'interno del settore, come così, quasi ospiti non grati, poi ho sempre fatto che alcuni di nostri, magari hanno detto, ma questi che pensano di biblioteche, e poi in effetti abbiamo provato con i fatti che, non so, semmai il fatto di vedere le cose in modo più obiettivo, guardandosi dall'interno solo, nel settore non si potevano sviluppare. Non so, a me viene da dire che da una parte forse c'è anche il fatto che quando una cosa ha successo, se c'è alcuni intorno dicono che facciamo anche noi come loro, altri dicono no, non riconoscono che sia un'idea, per cui ecco, non viene dato questo, semmai questo mezzo. Noi, a fine conti nel settore ci interessa non molto, perché in questo destra la gente intera a Brasilia, quelli che abitano in questo quartiere, che come vedete vengono a, in in gran numero, e apprezzano veramente quello che facciamo. Questa è la cosa più importante per noi. Se otteniamo riconoscimento a livello nazionale, va anche bene. A livello nazionale appunto, come ho detto, nessuno viene praticamente mai a chiedere, ma come fate? Cosa vorreste fare? Perché invece dall'estero abbiamo tantissimo interesse e abbiamo in qualche modo ispirato altri progetti, in America sicuramente, in Scandinavia, in Orlanda, e viaggio spesso, vado a fare conferenze, seminari spesso in tutto il mondo, per cui anche in Italia ho fatto parecchi, ho avuto colleghi che sono venuti a visitarci, anche io ho fatto chiedere, sono colleghi in Italia, e in qualche modo ho visto delle cose che anche i colleghi stessi mi hanno detto, guarda Sergio, questo ci ha fatto venire un'idea che vorremmo anche noi mettere qui nel nostro contesto, e questo è stato molto piacere. In Gran Italia, come ho detto, pochissimo, detto questo, questa settimana ho avuto, non una, ma due, quasi due episodi interessanti, una una chiamata da una cittadina di San San Antonio, un altro che mi ha chiesto, guarda Sergio, vorremmo sviluppare qualcosa simile al vostro, a Paranes, tipo lì a dire sto, potremmo sentirci per parlare assai niente, ho detto bene, sono anni che non sentivo, un collega britannico, e ieri ho avuto il modo di incontrare una collega, la direttrice della biblioteca di York, di Osher, nel nord, che dove lì è una fase, un passo molto importante, che forse potrebbe essere utile, che noi stiamo considerando anche per il nostro futuro, che potrebbe essere anche utile per i colleghi in Italia, quello di staccarsi dal comune e creare un ente, una società, diciamo così, non per profitto, si chiama Mutual, tipo una fondazione per gestire il servizio bibliotecario in modo esterno dal comune, ancora collegato chiaramente, però in modo più autonomo, per cui scrollandosi di dosso alcune delle burocratie delle lentezze, che purtroppo anche in Gran Bretagna esistono, sono solo tipiche italiane, in cui molti servizi di supporto delle biblioteche non sono molto efficienti, per esempio noi sicuramente a Paranes abbiamo fatto tantissimo per migliorare l'efficienza, per essere molto più rivolti al pubblico, all'utente, invece che al personale o alle pratiche del comune. E però abbiamo avuto un sacco di difficoltà quando si tratta di avere un ufficio personale che veramente ti sostiene e ti dà supporto, un ufficio che ti mantiene l'informatica, il servizio dell'informatica, un ufficio del Paghe, un ufficio di vari uffici del comune che dovrebbero darci un sostegno, il supporto perché non possiamo fare tutto noi. Invece io mi ricordo fare un sacco di pratiche di personale io stesso, per esempio, perché ho pochissimo supporto dal comune. Allora, questa è una situazione abbastanza comune in Gran Bretagna. Questa collega di York ieri mi ha spiegato come loro, a York, sono riusciti a convincere il comune che se il servizio pubblicale si stacca dal comune e fa la sua strada per conto suo, avendo comunque continuato il servizio così com'è, anzi migliorandolo, dal punto di vista fiscale avranno meno costi, saranno più abili a sostenere le spese per il servizio e questo c'è, non so se c'è anche l'Italia, qua, se noi vorremmo fare una cosa simile anche noi, la stiamo considerando anche tra Hamlets, perché se noi riuscissimo a fare così, per esempio, anche solo pagare la tasta che si paga per l'edificio, che noi paghiamo, siamo del comune, però paghiamo una tassa al comune stesso sui edifici, questa tassa che si chiama business rates ci porta via un 10% del budget, per esempio, per cui diventando una fondazione o un mutual society come lo chiamano qua, già questo costo diventa un ente di beneficenza praticamente, per cui ha lo stesso stato sociale di altre organizzazioni che non devono pagare questo tipo di tassa, oltre a quello noi paghiamo ogni anno al comune, all'interno, pagamenti interni, una cifra abbastanza notevole, tipo il 20% del nostro budget va per spese di supporto, che è prima dell'ufficio personale, dell'ufficio comunicazione, eccetera, e non vediamo un rendiconto veramente notevole, per cui quelli organi che loro hanno preso in manufazione, hanno chiesto al comune di staccarsi, il comune ha promesso loro, questo mi ha detto, sono molto fortunati, ha promesso loro il loro budget attuale, che è circa 2 milioni e mezzo di sterline all'anno, 3 milioni di Euro all'anno, per un sistema come York, hanno promesso il budget attuale per i prossimi 5 anni come garanzia. Loro sono costituiti come una cooperativa, in effetti, il personale sarà trasferito automaticamente in questo contesto e stanno vedendo come gestire, perché per i primi 5 anni dal punto di vista finanziario saranno al posto, però chiaramente devono preoccuparsi come riusciranno nel futuro, dopo 5 anni, a gestire, chiaramente devono riuscire a convincere il comune che distanziare delle cifre simili per continuare al servizio, anche se lo offro come esterno, il comune deve offrire un servizio. È un sviluppo molto interessante che serviva di York e che speriamo di poter, almeno in qualche modo, anche noi invitare, perché ci vorremmo, se possibile, cercare una nostra autonomia, perché come detto il cortice, questo peso, questa zavorra che ci relenta, perché noi siamo molto rivolti per il settore commerciale, nel senso delle destre molto più efficaci e la zavorra comune ci è ancora pezzo. Grazie. Grazie Sergio, speriamo il prossimo anno, magari presto di averti qui di persona, ti salutano tutti quanti i colleghi e speriamo a presto e grazie per la tua testimonianza. Ciao. Grazie. Grazie, grazie.